La vita in Italia è la vita di un paese benestante, in tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei punti sono assolutamente iper prenotati. Non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi, non mi sembra.